Dicevo andare in Europa, ma dov'è in Europa che c'è una cosa così? In Europa, nelle democrazie, le leadership ci sono, ma le leadership sono sempre organizzate su delle regole collettive, su meccanismi di partecipazione che puoi sempre attivare all'occasione. E' sempre su dei collettivi, dei partiti, delle formazioni politiche che garantiscono un orizzonte, una continuità, una barra, una prospettiva, una stabilità, una possibilità di riforme. Attenzione, noi siamo questo. Noi in questi tre anni, senza dirlo, forse anche senza saperlo tutti, siamo nati e siamo cresciuti in antitesi e in polemica radicale con quel modo di intendere la democrazia. E quindi siamo arrivati a quello che a loro sembra un paradosso, che io che ho stravinto le prima non metto il nome sul simbolo. Per noi è la normalità, è la normalità di un processo democratico.